I Nomadi, la band più logeva della musica italiana, torna a esibirsi a Sulmona. Il concerto sidera sabato 28 dicembre alle ore 21 al Teatro Comunale. La band, guidata dal tastierista e fondatore Beppe Carletti, presenterà dal vivo tutti i maggiori successi, da Dio è morto a Io Vagabondo, passando per i brani contenuti nel recente Mille Agni, un concept album che contiene 11 brani. Tutte le canzoni sono legate da un filo, le tematiche a trattare sono di attualità e rispecchiano il momento che stiamo vivendo, sia quelle scritte negli anni 70, sia quelle più recenti. La serata, organizzata dall'associazione culturale Nomadi Fan Club Un Giorno Insieme di Sulmona, è dedicata al reparto di ostentrice ginecologia dell'ospedale dell'Annunziata. Con il concerto dei Nomadi si conclude un importante progetto, che ha caratterizzato tutto il 2019 per accogliere fondi per l'acquisto del Bagi con Plus RS. un macchinario di ultima generazione, molto importante per il trattamento delle disfunzioni del pavimento pelvico. Uno strumento che consentirà a Revarto Sulmonese di essere all'avanguardia. Quest'anno per il progetto si sono esibiti numerosi artisti, tra cui Fabio Concato, Gianni Belleno, Nico Di Paolo, De Neutrols. Sono state toccate numerose piazze dei comuni dell'Abruzzo, Barrea, Bolognano, Bugnara, Castel di Sangro, Cocullo, Vesco Costanzo, Petto Rano, Roccaraso, Pietranzieri, Scanno, Villa Lago. Tutta la manifestazione ha visto in prima linea i medici, l'ostetrica e tutto il personale del reparto di ostetica e ginecologia dell'ospedale e ha avuto il sostegno economico solo di cittadini e imprenditori locali. I biglietti per il concerto dei Nomadi sono disponibili nelle abituali preventive sul circuito Ciao Tickets. I biglietti possono essere acquistati utilizzando la 18 app per i nati nel 2000 registrati entro il 30 giugno 2019 ed ai docenti con la carta del docente. Per informazioni sulla serata si può contattare il 389 97 37 620